Ancora lacrime Covid in Irpinia. Due decessi tra ieri sera e questa mattina si sono registrati all'ospedale di Ariano Irpino. Lo rende noto l'ASL. Ieri è deceduta una 64enne di Sant'Angelo dei Lombardi. La donna era ricoverata in terapia intensiva. Nella mattina è deceduta una 77enne di Rocca San Felice che si trovava ricoverata in area Covid. Attualmente presso l'ospedale principale di Ariano risultano ricoverati un paziente su 7 posti letto in terapia intensiva, 7 su 12 posti letto pazienti in medicina Covid, 15 pazienti in area Covid di cui 10 su 16 posti letto in medicina e 5 su 10 posti letto in subintensiva. Intanto l'ultimo bollettino e l'unità di crisi della regione Campania ha comunicato la positività al virus di 688 persone di cui 40 sintomatiche. In più sono stati comunicati 33 decessi, 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 22 deceduti in precedenza ma registrati nella giornata di ieri. Infine i guariti nelle ultime ore sono stati 1792. In Irpinia l'azienda sanitaria locale ha comunicato che su 507 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid, 24 persone, 5 a Marzano di Nola, 3 ad Ariano Irpino, 2 ad Aquilonia, Chiusano, Sant'Andrea di Conza e Venticano, un nuovo caso anche ad Avellino, Contrada, Lioni, Melito Irpino, Mirabella e Vallata. In Irpinia i comuni Covid-free restano dunque 3, Bisaccia, Cairano e Petruro.